Quali sono i tre negozi più amati della provincia di Arizzo? Fino a domenica 23 dicembre saranno gli affezionati clienti a cercare di far leggere il proprio negozio preferito come il negozio del cuore. È partito infatti il contest lanciato da ConfCommercio e dal quotidiano La Nazione, una sfida lanciata a quanti compilando l'apposito tagliando cartaceo pubblicato sul quotidiano vorranno segnalare il proprio negozio preferito, quello di riferimento per lo shopping ma anche per la vita quotidiana. Il punto per avere informazioni o fare quattro chiacchiere è il luogo dei sorrisi e della cortesia, la luce accesa fino a tardi ad illuminare le strade del quartiere per sentirsi più sicuri. Tutti potranno votare, potranno votare il proprio negozio tradizionale, il proprio bar preferito, il proprio negozio di abbigliamento speciale, insomma un grande concorso per valorizzare i negozi di vicinato, un grande concorso per valorizzare i negozi tradizionali e l'acquisto sotto casa. Non si parla di centri storici ma si parla di tutto il territorio e si parla di tutta la rete commerciale della provincia di Arezzo. Per ConfCommercio è davvero una grande soddisfazione aver, come dire, proposto alla nazione un grande evento del genere che coinvolge appunto tutti i negozi sotto casa. Il 30 ottobre sarà pubblicata la prima classifica provvisoria che verrà aggiornata in seguito ogni martedì fino alla scadenza dei termini e alla proclamazione dei tre vincitori finali che avverrà a gennaio 2019 dopo le festività natalizie. Questa nostra iniziativa è quella di valorizzare i negozi sotto casa, di riaccendere i riflettori sulla scelta di acquisto, se comprare o no nei negozi sotto casa che sono un presidio importante della città, dei centri storici, dei borghi perché garantiscono sicurezza, perché garantiscono pulizia, perché sono un centro di aggregazione. Devo ringraziare la nazione per la grande sensibilità di accompagnare questa nostra campagna pubblicitaria perché ha capito il sottile e profondo significato che c'è dietro la nostra campagna, appunto quella di non abbandonare i nostri negozi di vicinato perché ogni volta che decidiamo di fare un acquisto compriamo un atto politico. Sappiamo benissimo che se li abbandoniamo le nostre città saranno più buie, meno illuminate, saranno più vuote. Se le vetrine si spengono sarà un problema grosso anche per le nostre città. Già fare questa iniziativa è doveroso nel rispetto anche di tanti piccoli operatori che stanno per essere oscurati, invece hanno un ruolo fondamentale, un ruolo sociale, un ruolo di grande riferimento non solo per la città ma per i propri cittadini.